In questa puntata, mobilità ciclistica, sì, ha una nuova legge regionale. Territorio, semplificazione in vista del PNRR. Sanità, torna il premio BLSD Angel da Siena. Mostre, capolavori di gioielleria. Il Consiglio regionale approva maggioranza con 23 voti favorevoli e 14 astenuti la legge regionale che introduce nuove disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione. Noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a T la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente. E anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. Questa è una legge che consente di migliorare le strutture nei comuni, che stanzia delle risorse a vantaggio degli enti locali e soprattutto prevede la possibilità di fare investimenti particolari. Penso le ciclostazioni, penso dei manager che possono nascere nelle amministrazioni comunali finalizzati a favorire una mobilità sostenibile. Su questa frontiera si gioca tanto della qualità della vita delle nostre città. Sì, sulla mobilità ciclistica, è logico che siamo a favore, però all'interno di questa modifica di questa legge abbiamo portato degli emendamenti, due dei quali sono stati accolti, quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. L'idea di introdurre le ciclostazioni, cioè i luoghi dove si possono naleggiare e anche lasciare in custodia o addirittura accomodare le biciclette, è un'idea che noi sposiamo in pieno. Naturalmente va accompagnata, l'abbiamo detto, anche dal sostegno con altre attività commerciali che possano rendere appetibile per operatori privati prendersi la responsabilità di aprire o di gestire una ciclostazione. Approvata maggioranza la legge che, come illustrato dal Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, introduce nella normativa regionale una disciplina speciale e a termine, necessaria per favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, PNRR, e del Fondo Complementare. Con questa legge noi abbiamo innanzitutto raccolto la preoccupazione degli enti locali, dei sindaci, che entro la fine del prossimo anno devono progettare ed impegnare le risorse collegate ai fondi del PNRR e chiedono semplificazione. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorre una variante urbanistica. Non si tratta di nessuno stravolgimento, sarà una legge limitata nel tempo collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento, che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi, della Toscana, è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. La nostra posizione è di buon senso, mediata anche con i nostri rappresentanti sul territorio. Siamo assolutamente favorevoli a semplificare i passaggi burocratici per rendere operativi i fondi del PNRR perché è bene che i cittadini sappiano che fino ad oggi molto si è discusso, tanti progetti, tante idee sono state presentate ma poi quelle idee, quei progetti vanno, come si dice, calati sul territorio. Per farlo bisogna rispettare le norme. Ebbene la regione toscana negli ultimi vent'anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici, di piani, contropiani, verifiche, tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie. Se basti pensare a quello che deve fare un povero cristiano per spostare una finestra di 50 centimetri in regime di vincolo paesaggistico, poi ad un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congeria enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica. Noi su questo non siamo d'accordo, così come non siamo d'accordo nell'eliminare la VAS, la valutazione ambientale strategica soprattutto per i progetti di più ampio impatto sul territorio perché diventa una contraddizione clamorosa applicare i progetti del PNRR che come sappiamo è il Green Deal cioè la rinascita verde dell'Europa eliminando la valutazione ambientale strategica. Io voglio ricordare a tutti che per superare transitoriamente questa legge ci saranno poi delle opere ben poco transitorie che insisteranno sul nostro territorio per decenni e che se fossero mal costruite potrebbero costituire un danno più grande dei soldi che riusciamo ad intercettare perché superare la valutazione ambientale, comprimere i poteri dei comuni e dei consigli comunali a cercare di analizzare quelle che è l'impatto sui propri territori di queste leggi e di quelle opere cercare di limitare temporalmente la conferenza di copianificazione e addirittura chiedere di derogare a dieci articoli un'intera legge significa scavalcarla e di fatto annullarla. Questo è quello che è riuscito a fare in questo momento la maggioranza e ne siamo fortemente delusi perché riteniamo che si potesse invece intervenire in maniera migliorativa e che si è persa un'occasione per fare della regione toscana una regione di cui si possa essere orgogliosi per la capacità di valorizzare le risorse che lo ricordiamo ancora il Movimento 5 Stelle grazie a Giuseppe Conte ha messo a disposizione. Quello che ci preoccupa è che alcune decisioni e alcune modifiche alla normativa urbanistica regionale come questa proposta di legge che abbiamo discusso oggi in aula è un problema di tipo diverso perché pone un'attenzione che deve essere rivolta ai territori e in particolare noi abbiamo preso opposizione per quello che riguarda le amministrazioni comunali. Noi non vogliamo che le decisioni che devono essere presi su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali. Quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante. Non vorremmo che poi ci trovassimo conseguentemente ad opere che devono essere giustamente fatte come penso alle case della salute ma penso anche a tante opere infrastrutturali come organi proponenti che possono essere la regione e lo Stato ma qualora non siano i comuni che i comuni siano parte decisoria, efficace e importante e decisiva di queste opere. Quindi sicuramente vogliamo che quei 4 miliardi che arriveranno per i progetti del Piano Nazionale di Presa e Resilienza arrivino sui nostri territori, vogliamo che questi soldi siano spesi fino all'ultimo centesimo, vogliamo che ci sia questo tipo di intervento e che la Toscana sia parte attiva e importante su questi processi ma non vorremmo che queste decisioni passassero sulla testa delle nostre autonomie locali comunali perché sappiamo bene che poi quando si parla di localizzazione di alcune opere ci deve essere il consenso della cittadinanza che lì ci vive. A Italia Viva è stato il primo partito presente in Consiglio regionale a depositare una legge per modificare la legge Marzon, la 65 del 2014. Noi l'avremmo voluta abolire completamente. Bene, comunque un passaggio importante che semplifica le opere pubbliche dei comuni, soprattutto quelle finanziate dal PNRR, le opere che devono essere realizzate in tempi celi devono avere un procedimento veloce, semplificato, via la burocrazia, si arriva a fare finalmente una legge che tanti sindaci hanno chiesto, tanti comuni, tanti enti per fare delle opere pubbliche importanti per la Toscana, ovviamente noi chiediamo di fare di più, di eliminare anche le conferenze di copianificazione non soltanto per le opere del PNRR ma per tutte le opere della nostra regione quando anche a livello nazionale ci siamo mossi noi per fare il piano shock delle opere pubbliche, sono arrivati i commissari, le opere sono partite. Riconoscimento per gli operatori laici che hanno contribuito a salvare vite umane in Toscana attraverso l'utilizzo del defibrillatore. Un'iniziativa che appunto riferimento al cuore può salvare la vita delle persone, un utilizzo consapevole dei defibrillatori, di un'esperienza associativa che oggi premia tutti coloro che a livello toscano si sono distinti per un gesto di solidarietà, un gesto di amore verso gli altri, un gesto che può salvare la vita a tante persone. È bello presentare in regione un'iniziativa che ormai è cresciuta, sta diventando importante e dà una spinta a tutti noi per fare meglio, per crescere. Ricordo l'iniziativa legislativa che io guidai in Toscana, prima regione in Italia, rispetto all'obbligo di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore, è allo studio una proposta di legge che presenteremo in settimana prossima, nell'ambito della quale renderemo obbligatorio se verrà accolta questa ipotesi in tutti i luoghi pubblici dove la regione toscana è presente nei territori. La nostra associazione sei anni fa ha avuto questa idea, proprio nell'ambito della propria attività che è quella di informare i cittadini della nostra realtà sull'importanza dell'intervento rapido durante l'arresto cardiaco e utilizzare quando è possibile il defibrillatore. Da lì è nata un po' l'idea anche di premiare in qualche modo chi, nello specifico quei cittadini che normalmente non si occupano di sanità ma che in caso di necessità si sono dedicati e si sono prodigati a tentare di salvare la vita ad un altro cittadino colpito dal resto cardiaco, magari utilizzando anche il defibrillatore. E quest'anno vede anche un altro importante traguardo che è quello di essere riusciti a raggiungere 18 cittadini toscani che si sono prodigati appunto nel salvare la vita ad altri cittadini e 8 menzioni speciali che sono l'altra parte del premio che va in qualche in maniera a ringraziare quegli enti, quelle associazioni, le scuole in particolare che si sono dedicate e hanno preso come spunto la nostra attività formando altri ragazzi e altre persone della scuola. Io penso che investire in questo campo sia importante, è il messaggio che oggi vogliamo mandare anche di qui, anche dal Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Scaramelli per avermi coinvolto e proprio questo, prevenzione, formazione, soccorso e credo che su questo si giochi anche una fetta della Toscana di domani. Capolavori della gioielleria, tra cui un colbacco realizzato con fili d'oro più sottili di un capello. Sono 28 gli oggetti provenienti dalla collezione Bollman ed esposti in Consiglio regionale a Firenze in occasione della quarta edizione della Florence Joyleri Week. La collezione Bollman, messa in piedi dall'avvocato austriaco Karl Bollman e da sua moglie Heidi, è la più prestigiosa raccolta europea di gioielli contemporanei. Ad ospitare la mostra Bollman Collection, estraordinario Giovanni Corvaia, lo spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi del Consiglio regionale della Toscana, di nuovo aperto dopo la pandemia. Questa è una parte, è una parte importante perché raccoglie degli oggetti, una trentina di oggetti di una collezione privata tra le più prestigiose al mondo. E poi c'è un pezzo particolare che forse avete visto, che è del maestro orafo Giovanni Corvaia, che è un oggetto molto speciale, che ha girato soltanto in pochissimi musei. Però in realtà la settimana ha un programma che coinvolge diversi luoghi, diverse istituzioni e città. A cominciare da qui, qui di fronte, in Palazzo Medici Riccardi, dove c'è la mostra principale, dove noi invitiamo per ogni edizione un gruppo di artisti selezionati in base al concetto di quell'anno. Quindi c'è un curatore che sceglie gli artisti da invitare. Da lì poi abbiamo un'altra importante mostra nella galleria di Palazzo Coveri, dove abbiamo ospitato i vincitori di un concorso internazionale, anche quello bandito da noi, organizzato da noi, dove ogni anno selezioniamo 5-6 artisti con una giuria internazionale, giovani emergenti. Questo è un progetto che noi portiamo avanti all'85 perché vogliamo dare spazio alle nuove voci del gioiello contemporaneo. La Florence Week è una settimana di eventi, riflessioni, mostre sui gioielli. Sono molto contenta che la Presidenza del Consiglio regionale e il Presidente Mazzeo abbiano accolto questa iniziativa e abbiano deciso di ospitarla in questi spazi del Consiglio regionale perché il gioiello da sempre nella storia dell'uomo, dell'umanità, è il segno della nobilitazione del corpo umano e dell'onore che gli esseri umani tributano al loro corpo e al suo abbellimento. È una tradizione che è tuttora vivissima, piena di innovazione, piena di opportunità anche di lavoro per tanti giovani artisti che in questa si cimentano. Oggi qui vedremo il meglio e vedremo l'espressione artistica di questa forma di lavorazione dei materiali che in realtà è quella bellezza che arriva vicino a noi. Grazie ai tanti orafi che hanno prodotto tanta bellezza, grazie alla manualità, all'artigianalità di ciascuno di loro, grazie alla capacità di saper innovare. La Toscana è proprio questo nel suo segno distintivo, radici, tradizioni che però volano sulle ali del Pegaso portandoci in esperienze totalmente differenti e innovative.